Buongiorno amici, sono Fiorella, nostra signora. Oggi insieme portiamo maggior chiarimenti sul testo del terzo segreto di Fatima. Guardate come in cima al testo inizia con la spiegazione di nostra signora. Una signora che ha contatto con il trono di Dio. Questa luce, una luce che è Dio. Un angelo con una spada infuocata che sembrava volesse incendiare il mondo, ma a contatto con nostra signora tutto si placava. Ebbene sì, cerco di spiegarvelo in tutti i modi. Il perché tutto si è ridotto in una società assai marcia. L'indifferenza, la perdizione, l'inganno, la menzogna. Tutto per far apparire tutt'altro di ciò che l'individuo dovrebbe essere. Se abbiamo una società marcia è perché l'individuo è tale. Il nucleo familiare che dovrebbe essere, d'esempio, spesso è tutt'altro. Essi prediligono la vita facile, fatta di ogni svago possibile. Quando invece, non a caso, si dice, prima il dovere e poi il piacere. Guardate la parolina poi. Dice Pio, quasi a dire, devi aver fatto tutto, tutto, tutto e poi Dio ti concede ogni piacere. Dicendo così, nessuno vi vieta lo svago. È che avete fatto tutto il contrario. Lo stretto necessario per far sì che il piacere dilagasse in ogni dove. La responsabilità che dovrebbe far parte, prima di tutto, dell'individuo, l'impegno, la serietà, l'onestà, tutto è andato dimenticato. Tutto ha preso il sopravvento pur di dire, guarda quanto sono bravo. E per far questo, non si è badato a spese. Guardate il dipinto che apre il nostro sito, il terzo segreto di Fatima, quello che voi comunemente chiamate il giudizio di Dio. Guardatelo bene. Spiega esattamente ciò che vi sto dicendo. Dio è in arrivo. A una donna sotto braccio, seguito da uno stuolo di angeli. Indica l'uomo. Guardate in che stato lo trova. Indifferente. Stravaccato per terra. Ozioso. Assente. Un corpo pieno di muscoli. Delle parte genitali di un bambino. Vuol dire che ha procreato tutto ciò che è di più infantile. Ha fatto di tutto e di più per apparire bello. Ma il cervello è rimasto quello di un ragazzino che ama soprattutto la spensieratezza. Quando invece la vita è un grande dono e come tale va preso e speso con grande responsabilità. Se vi sono sembrata banale, guardate che tutti i mali del mondo nascono da ciò che voi intendete banale. Perché la parola banale dice tutt'altro. B, la seconda lettera dell'alfabeto. Anale. A significare fate un passo indietro. Analizzate la vostra dualità. Specchiatevi. Guardate la vostra doppia faccia. Gli piace? Perché questa è visibile in ogni dove nella nostra società. E sì, cari amici, nella lista del terzo segreto di Fatima, in cima cade prima la testa del Papa. E questo è successo. Avete visto, con l'arrivo di Dio, come tutto procede secondo questo disegno. E non è finita. Ora incomincieremo a vedere delle belle. Nel clero e nella società. Già, questi sono i frutti di ciò che è stato seminato fin adesso. Sapete, amici, quando sento certe persone che si incamminano verso la terza età, con quanta bramosia aspettano la pensione, quasi a voler dire, ho fatto tutto, ora merito il riposo. Quando invece la parola pensione dice tutt'altra cosa. Dice pensi e no. A indicarti si è chiuso uno ciclo e se ne apre un altro, che dovrebbe essere messo a frutta, a frutto, la tua esperienza per i più giovani. Dovresti dedicarti alla società con maggior consapevolezza, con maggior impegno, visto la tua esperienza. E invece, cari amici, cosa fanno? I più tanti si lasciano andare all'ozio, che è il padre dei vizi. E lì, non a caso, l'alcolismo è in aumento negli individui della terza età, perché non sanno cosa fare. O meglio detto, non vogliono fare, non vogliono saper fare. Ed ecco, che le malattie sovrastano la loro vita. Perché la malattia è un campanello, dove ti dice, guarda che stai agendo male. E lì dovresti capire che è ora che devi cambiare. Guardate, che ancora una volta faccio tutto questo per farvi capire che è veramente arrivato il momento che dovete cambiare. Perché sarò spietata, con i fanulloni, con i superficiali. Farò ciò che sta scritto nell'Apocalisse. Lasciate che il grano cresca con la zizzagna. Quando io arriverò, li separerò. Porrò il grano nel mio granaio. E la zizzagna verrà legata in fustelli, gettata nello stagno di fuoco e di zolfo ardente, così che abbiano il loro inferno interiore. E sì, cari amici, se volete crescere, questo dovrete fare. Ancora una volta, vi prego, con tutto il mio cuore, specchiatevi, cambiate. E' arrivato il momento che siete costretti a fare. E ancora una volta vi dico, se vi sono sembrata banale, la parola banale dice appunto tutt'altro, come l'ho già spiegato. molti si meravigliano. Là dove io apro la parola e dal contrario traggo il vero significato. Sì, questo lo faceva Leonardo da Vinci. Scrivendo al contrario si specchiava. Ecco, nel gioco dei contrari troverete la vostra verità o la verità in assoluto. Sappiate che tutto questo porta a una vita migliore. stiamo facendo tutto questo per darvi un'esistenza migliore. Perché lo ripeto, la vita è un grande dono e come tale va speso. Non perdete l'occasione. Per un mondo è una vita migliore. La vita è qualcosa di straordinario se imparate a viverla come tale è. e quando di notte non dormite lasciate stare i farmaci. Non sono quelli che vi danno sono tranquilli ma la coscienza è nemica della notte. Di coloro che non amano la giustizia la coscienza le richiama. Ecco detto ciò ancora una volta il mio augurio per voi specchiatevi cambiate fate questo per voi e per tutti i vostri cari. Grazie sempre per il vostro prezioso ascolto alla prossima Grazie a tutti.